Ciao ragazze, benvenuti al solito appuntamento mensile dei preferiti del mese mi scuso perché il mese scorso non ho girato né i preferiti né i promossi bocciati quindi questo mese sia i preferiti che i promossi bocciati sono sia di settembre che di ottobre allora inizio subito con mostrarvi i prodotti che ho utilizzato di più in questo periodo e vi faccio vedere la BB Cream Midas che vi ho mostrato già in altri video come potete vedere già sta qui perché davvero l'ho utilizzata tanto l'ho utilizzata tutto il mese di settembre e anche un pochettino la sto utilizzando questo mese di ottobre l'alterno alla BB Cream Garnier o al fondo di Essence mi ci sono trovata davvero bene, è un'ottima BB Cream perché ha un'ottima coprenza la consistenza è cremosa, non è liquida e essendo nella tonalità bronzo lucido dà anche una luce all'incarnato che mi piace molto ma è disponibile anche nella colorazione bronzo matt, quindi consigliatissima poi ho utilizzato sempre come prodotto per la base del viso il correttore di Arianna il mio nella tonalità 02 non si vede niente oggi comunque è lo 02 ha una punta di aranzato all'interno, mi ci sto trovando bene ha un costo davvero bassissimo di 2 euro e copre abbastanza bene l'occhiaia davvero ottimo prodotto ne avevo sentito parlare bene l'ho trovato perché non è facile trovare questa marca qui e l'ho preso subito consigliatissimo ha un costo davvero bassissimo quindi se non sbaglio costa anche meno di quelli lì di Essence correggetemi se sbaglio poi per quanto riguarda i prodotti che utilizzo come base trucco occhi vi faccio vedere questi due matitoni qui di Essence che vi ho mostrato già nel video degli acquisti mi ci sto trovando divinamente li utilizzo davvero spessissimo da quando li ho comprati ed è un prodotto davvero top che ha introdotto Essence nella linea permanente sono davvero molto molto validi durano tantissimo e fanno durare a lungo anche gli ombretti li ho utilizzati sia solo che tamponati con un ombretto sopra e sono davvero buonissimi quindi ve li straconsiglio e hanno un costo se non erro di 3 euro e 10 l'uno quindi ottimi e un altro ombretto che ho utilizzato come base è il Pupa Vamp numero 100 perché vi faccio vedere ha un colore molto molto neutro è questo rosino beggiolino è abbastanza pigmentato questo è il colore è molto molto luminoso è abbastanza pigmentato e lo utilizzo spesso per qualsiasi tipo di ombretto perché comunque è un colore molto neutro e ci stanno bene un pochettino tutti gli ombretti si stende bene ha una consistenza tipo in mousse è molto molto buona e dà la possibilità anche di essere sfumato come prodotto a differenza di quelli di Astra che una volta fissati non vanno più via quindi consigliatissimo questo qui l'ho preso con il coupon tutte le parti per Pupa a 5 euro poi vi faccio vedere sempre come matita questa qui della Yamamai Beauty la sto adorando davvero ed è la numero 16 è davvero buonissima ha una scrivenza fantastica e si può dire che la utilizzo quasi tutti i giorni perché è davvero molto molto buona bellissima poi come mascara sto utilizzando tantissimo questo qui di Maybelline il Vibra Perfection Mascara mi piace molto questo mascara ha proprietà più allunganti che volumizzanti separa molto bene le ciglia e premendo insomma questo pulsantino qui che vedete questo pulsantino qui il mascara vibra mentre ve lo applicate quindi avete proprio la sensazione che le vostre ciglia si allungano per avere un effetto davvero super io si utilizzo su il top coat di Kiko quello lì volumizzante perché vi ripeto come effetto questo mascara ve le separa e ve le allunga ma non le volumizza quindi io si utilizzo sul top coat della Kiko poi come prodotti labbra vi faccio vedere due prodotti allora il primo è lo Stay Matte di Essence nella tonalità 01 Velvet Rose che è un bellissimo tono un bellissimo color nude che vira rosato tipo è molto molto bello eccolo qua e ho utilizzato tanto anche questo matetone di Catrice che mi vedete sulle labbra che è di una collezione limitata però della Glamazon Lip Color Pen ed è molto molto buono è molto scrivente sembra quasi un rossetto e se lo vogliamo paragonare ai matitoni della B-Lod questo qui è molto molto più scrivente poi come ultimi due prodotti vi faccio vedere questo qui della Beauty UK che il blush della Beauty UK che vi ho mostrato già in numerioli video ma l'ho utilizzato tanto ed è stato uno tra i preferiti insomma dei questi mesi e come ultimo prodotto vi mostro una paletta che vi ho messo anche nel video dei consigliati per quest'inverno al limite ve lo lascio giù nell'info box dove vi faccio vedere insomma tutti i prodotti che vi consiglio per quest'inverno e ho inserito anche lei ovvero la Storm della Sleek è molto molto bella come paletta ha colori molto autunnali come vedete invernali e l'ho utilizzata l'ho utilizzata tanto l'avevo accantonata un pochettino però poi è uscita la moda dei ombretti quelli lì metallizzati e ne ho approfittato perché la maggior parte di questi ombretti ha un finish shimmer metallizzato molto molto bello all'interno ha tre colori matt questo beggiolino il marrone e il nero poi per il resto sono tutti shimmer metallizzati ha un costo di 9,90€ potete scegliere tra tanti tipi di palette perché Sleek veramente offre una vasta gamma di palette e varie colorazioni però questa ve la consiglio perché all'interno colori che sono perfetti per quest'autunno inverno e niente ragazze questo è per quanto per quanto riguarda i preferiti del del mese di settembre e ottobre io vi mando un forte bacio ci vediamo prestissimo nel prossimo video ciao ragazze